C'è un lavoro che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, sicuramente è stato fatto bene grazie al mister, grazie all'altro presidente Simone Bonfiglio, un lavoro che ha dato i suoi frutti finalmente. Sono anni che ci lavoriamo dietro a questa cosa e un po' di soddisfazione finalmente c'è. I ragazzi hanno giocato veramente bene oggi, tutto è andato proprio esattamente come l'avevamo pianificata, quindi lavorando sul gioco, sulla ripartenza, la Lazio è forte, perché sicuramente è una squadra molto forte, preparata, tatticamente messa bene e buon palleggio, sicuramente. Però vediamo il ritorno come finisce, prima della partita. All'inizio ho detto non c'è ritorno, una partita sola, è questa e così l'hanno giocata. Alla prossima dirò la stessa cosa, è una partita sola, è questa.